Un frutto sostenibile perché attualmente per adesso non c'è da fare, si può dire che sia biologico perché non c'è alcun trattamento da fare, resiste molto bene agli agenti atmosferici, alle varie malattie. Chi lo assaggia rimane molto molto soddisfatto perché il sapore è tendenzialmente uguale al kiwi ma molto molto più dolce e la gente se lo assaggia lo apprezza molto e va a cercarlo nei supermercati, confezionato nei cestini come piccoli frutti. I miei prodotti di punta sono fragole, lamponi, energy, sono i miei prodotti dell'azienda. Come pianta sicuramente il energy ha una durata più lunga come consistenza della pianta. Fragole riusciamo a portarle tre anni barra quattro con delle buone produzioni e lampone anche su tre anni si comporta molto bene.